Buonasera e benvenuti, questo è Glory Hall e questa sera qui con me Giulia Sicora Io sono in Toscana e nel Garda Lake Giulia, ho cominciato a imparare il piano quando erano molto piccoli e come hai deciso di sviluppare la tua parte elettronica della musica? A mia vita molto piccola ho amici che sono più oltre da me e mi portavano a i cooli clubi e questo è il modo che ho connesso con la musica e ovviamente il primo club dove ero è stato un più commercial club ma hanno un secondo luogo, come un tecnico luogo quindi questa è stata la mia prima esperienza e ho sentito direttamente con la musica E qualunque era il vostro 8? 15 15 Wow Well Giulia, sei molto bene looking quindi credo... sì, è vero quindi credo che questo sia un avvento o no? Ehm... sì, è un po' positivo, sì, ovviamente ma penso che in fine la musica parla per te è la cosa più importante sì, sì 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 è un po' di carriere quindi è un po' di carriere e la gestione è un po' di carriere sì 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 è un po' di carriere è un po' di carriere è un po' di carriere questo è un po' di carriere 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 fosse un po' di carriere